Conosci i tuoi campioni. Un guerriero, sempre in difesa dei suoi compagni più talentuosi, anche se questo gli costa il record di giocatore più espulso della storia della Serie A. Nato in Uruguay nel 1971, Paolo Montero cresce in patria nel Peñarol e sbarca in Italia nel 1992, acquistato dall'Atalanta. Qui, sotto la guida di Marcello Lippi, mette in mostra la sua grinta e la sua leadership. Tanto che il tecnico lo vuole anche con sé alla Juventus a partire dal 1996. In bianconero, Montero vince quattro scudetti, tre supercoppe italiane, una supercoppa europea e una coppa intercontinentale. Curiosamente, segna il primo gol in Serie A con la Juve solo all'ottava stagione. Quarantatresimo minuto, su questo calcio d'angolo c'è il gol di Montero, il primo gol di Montero con la maglia, pensate, della Juventus. Lasciati i bianconeri nel 2005, Montero chiude in patria e poi inizia la carriera da allenatore.